il loro primordiale quindi allora la chiave è lì non mi dai per nulla noia col gomito una successione di qualcosa la morte fece dono dell'osturità allora sono i codici potrebbe essere la morte fece dono l'uomo contro le quattro bestie e proprio la loro fame con le proprietà e poi brucia oddio al dentro diciamo dovrebbe essere morte bestie bestie e fuoco però prima di sistema il corte non ti faccio rumore il quadro l'hai già messo rimesso a posto laggiù dunque morti bestie e all'unione alla sterpente per parte c'era anche sulla colchetta quindi metti sterpente fuoco? è il cuore è il cuore è il cuore è di ardente e fasce forse è quello che noi bisogna capire mela serpente no se l'ha già provato? è con tutti a meno che sia serpente mela per un caso così morte c'era nella storia si però se la storia era per i quadri l'ho detto io sì no no alla fine se ci pensi è quello metti il quadro lì lì poi quello delle ardenti carne ovvero quello grosso nel mezzo è lì quello lì mamma mia grande però male va che cosa c'è da qua? sto a prendere un cazzo però mi ha dato il simbolo la foglia quindi la foglia è l'ultimo no guarda forchetta foglia cortello ah è giusto giusto è successo a me mi piace il cortello è perché forchetta foglia cortello ricordiamoci anche lui però eh cosa c'è da qua qui dentro? ah il loro più bordiale intanto metto il quadro lì vai vabbè ora vai al quadro ti hai messo quello giusto una sega forchetta ah forchetta era serpente serpente mela no foglia foglia e cortello oh via tena eh oh che cosa c'è da fare no è chiuso oddio l'usa e il serpente ok qui c'è da trovare due statue no sì uh che sono assi adesivi che usano ragazzi ma dove lo usano cosa usano? che cazzo c'è da dir di? qualchezza ma cosa servirà? un fantasma qui da tutto oh citto oh combustibile quindi adesso c'ho il combustibile poi aspetta richiudi e vedi se riesci a ripristinare metti il lucchetto? se ti fa mettere il lucchetto ovviamente no stai a me a vedere il lucchetto no vabbè vuoi dire che io te lo facessi sgammare sarebbe lo stronti usa oggetti come lo può? lo fai combina prendilo e combina è proprio le basi hai fatto lampeggio eh nemmeno io cosa ho fatto? oh lo vedi? lampeggio lampeggio nooo bastava danni la manata per i ragni lì eh bravo spiegati da lì no cos'è? nooo stai diventando completamente male dunque prendi il fornelli metti il quadro metti il quadro si 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 vai al letto posala 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 bravo posala posala che lei voleva farla via nemmeno io nemmeno io nemmeno io nemmeno io nemmeno io andava a letto anche io per la no ma lo che è per te guarda è nemmagrita ciao come la frutta qualcosa qui non mi conviene qualcosa qui non mi quadra ah ah qual quadra non cosa eh forse è solo la mia immagina guarda che se lo metti la trucca come è morto perchè sei così ostinato vedi di mangiare o te lo picco giù per la gola stai anche saggiato meglio che nel culo stai anche saggiato vai ora di volata quindi prendi un'antenna però prendi un'antenna poi il cavatappi l'ha già preso si il cavatappi l'ha già preso strappo il sughero no aspetta c'è anche di là il sughero magari è meglio di là eh perchè di volte sgama subito anche che qua devo l'attacco al culo eh se poi arriva perchè servono tutte e due mmm che cazzo servono ma dovrebbe cadere ora no provate a cadere la cancio provate a cadere la basta la levata ah quindi c'è anche quella si e la devi mettere a fa figura le incasti tutte e due ah uno qui o l'altro no dove no perché non te lo fa fatto però pensavo anche io di metterlo eh tu lo puoi fare con vida più che altro lo puoi fare con vida fra due tassi e ora la devi mettere a fa il giochetto proprio la prima con la luce non devi mancare il pezzo oh no forse è tutt'uno è tutt'uno è tutt'uno no a me mi sembra questa sia cosa della terra però è anche un po' poi se lo devi mettere su lo devi mettere su il primo piedistallo e poi uno sul secondo piedistallo e poi ve l'altro prima tanto se non sblocco lo sblocabile se non sblocco questo se non apro questo per vederci attraverso vai col coltello ma perché non mi fa usare un oggetto forse devo equipaggiare lo devo equipaggiare ci vuole il coltello ci vuole il coltello quindi ci vuole la testa del serpente ci vuole un altro oggetto no a parte no bisogna aprir quel cazzo di ove il coltello dove cazzo è? l'ha portato? l'ha portato una sega ora infatti ci porta più nemmeno la mangia ma è reale però adesso ora non si possono più attaccare le lanterne quindi eh stiamo nel bottino no noi siamo nel bottino siamo a buon punto lo puoi aprire prendi un po' un po' di equipaggiare le lanterne dove è queste vini? quello lì aspetta si ci fa andare un attimo al posto un altro posto beh siamo a buon no è che siamo arrivati a questo punto e va bene però la te allora io non capisco qui perché non mi fai selezionare ho capito ma ma non mi fa selezionare mi dovrebbe di seleziona oggetto ecco diciamo che questo potrebbe essere un un enigma che nel packet desinettivo sarebbe stata una norma perché invece in questo non c'è gli enigmi di questo vì enigmi sopra lo si può aprire vero dove? il armaditto su cazzo cazzo ci vorrà un coltello o qualcosa no guarda una lama spingi ma spingo dove cazzo se ne ha? no non c'è nulla ma guarda ma dove? c'è un coso nero ma dove? qui no dove vedi qualcosa? dove? no girati lì guarda ma cos'è? ah no non c'è nulla ma che enigma del cazzo è? sono come quei gioini sono come quei gioini dove ti fanno morire perché appaiono le osse a caso guarda ma dai ma no ma quanto cazzo sei in passato? cazzo dove cercare il cortello lì? ma poi perché incastrarlo lì? ma ma chi ce l'ha messo? che piatto? che piatto? cosa ci vuole? davanti davanti giù giù ma c'è il trabocchetto via ma la testa di serpente? fai intanto una ce l'hai lo devi bene in uno e in due in quell'altro fai io un mese e poi fai prima devi fai uno ma questa è la testa di serpente no si no la medusa lo vedi che c'è la medusa? no diciamo 12 allora l'unica cosa che sembra è una lingua più forcuta a me mi pare merusa scusa eh prima di perderci un'ora mi fai provare una cosa ma di là di sicuro ah è il fornello no mi calvava però il fornello via perché lo scordi? perché sennò non gira ma come non gira? se l'ha fatto in modo tale da girare guarda come gira? no gira un altro pochino? no no ben tu? aspetta guarda non gira devo fare così per ruotarlo è una congiura devo fare così per ruotarlo sennò non ruota ma siete duri eh io caio vai così perfetto no c'eri come c'eri? io si? eh oh deve essere rivolto in là la faccia ma no verso di te la faccia no così appunto ne è rivolto in là ok quell'altro se non me lo faccio in tutto vai vai ah hai visto? sono convinto al 36% vabbè già un po' allora allora mettilo sotto così bravo così di più vai in su no di là di là metto su verso sud vai continua a girare in su scorri bravo così ahahahah lui non ha testato nel naso vai ecco basta trovare la lingua no la lingua a parte gli scherzi aspetta aspetta ci siamo ci siamo gira 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 come era la prima come era come era come era scusa così ma cosa i buchi verso di te metti i buchi verso di te ma sei zitto i buchi verso di te i buchi i buchi i buchi gira i buchi verso di te niente istenza riuscito e cosa vuol dire devo fare così si se né evidenti catorredito ma avete già capite la mia definizione dei prezzo io il potere segmento ecco guardate cos'è che fringevi? c'è il cellulare di merda! allora questo guarda! c'è qualcuno che mi dice oh guarda devi metterlo girato in quella maniera ma non mi ha dato il messaggio giralo di più perfetto ma questo qui è la testa lo vedi? la conformità della testa non è quello! prova il cucchiaio prova sono la sega e il cavatatti! il cavatatti! la forchetta, il coltello non va, l'accendino cazzo! io secondo me è questo io me lo la forchetta è l'unica che non volevo provare! è l'unica che sarà sicuramente! guarda un po'! oh aspetta un po'! aspetta! però guarda la lingua! è vero! beh la devi dare così col culo in su? col culo col culo che fa così! come fa? in là così! così qua! così! no! di là! la forchetta deve essere di là! la punta su di te! sta provando a caso! nooo! e devo per girarlo! devo fa' così! parla voi api! fai vedere la telecamera per favore perché è una cosa divertente! chetati! perfetto! allora! no allora in quell'altro pezzo come dicevo io ho visto? no! si! pigile! vai ci siamo! ho scritto! no! no! come no! no! forse è quella che devi mettere! così gli assomiglia però eh! no! un po' più spostato! no! no! torna com'è di che era il pezzo! no! non girai! non girai! vai su! piano piano piano! impenna! impenna! arizzalo! guarda perfetto! ma puttana! ce l'avevo detto la forchetta doveva andare là! De! non è vero! si si! no! no! io ho un buon ricordo! riprendi la forchetta potennauzza! se poi c'è da mangiare! se poi c'è da mangiare! oddio ma! non è male che stavo prendendo! no! no! ma beccato! ora muoio! ma poi c'è destino tutto il giorno a morire! e come faccio a non morire! ah! dunque! allora abbiamo avuto dei problemi! tanto per cambiare! tanto per cambiare! tanto per cambiare! sulla registrazione del finale del dlc! si! cioè fino a dove siamo arrivati siamo ripartiti! siamo ripartiti! siamo ripartiti! comunque deve ripartire comunque dall'inizio! e niente! cosa mancava di armarsi con la cortella e andare a piantarlo nella gola! che per l'altro era un cazzin! come cazzin! che fa da sé! quindi nulla! la cortella va ne sotto e il bello è che fai 5 metri al buio e finisce! 5 scalini! veramente mancava 12 secondi! 12 secondi! quindi! però il fato ha voluto che non li stringi! come è veramente una merda! è veramente una merda! è carina l'idea! si! non l'hanno fatto uscire col gioco! giusto per dire che ci da anche un dlc! ma questo è talmente una merda che anche se lo metti col gioco non cambia niente! comunque il gioco è maledetto! niente! anche l'altra modalità quella è un altro tipo arena no? dove vai e arrivano gli oggetti random! si! quello dita! siamo arrivati 3 secondi! 3 secondi si! ma non ce n'è nemmeno fagato un cazzo di provarla a arrivare là! vabbè ragazzi quindi per ora è tutto dai! ci vediamo nei prossimi episodi! un saluto dal curandero! diteci che ne pensate voi di questo dlc sotto i commenti! e suggeriteci! e suggeriteci i giochi! e se ne vale la pena anche di fare quelli dopo! ciao ragazzi! ciao!